Tanta emozione e poi niente, ho cercato di farla al meglio che ho potuto e il risultato è avvenuto, quello che volevo. L'incontro è ovviamente la finale o semifinale, più però la finale perché avevo perso con questa ragazza anche l'Europeo Cadetti. Quindi ho cercato di dare il massimo e è andata. Io dedico questa medaglia a mia madre perché comunque fa tanti sacrifici e poi ai maestri della nazionale e al mio maestro che mi segue in palestra e poi a tutte le persone che comunque mi aiutano e mi continueranno a aiutare.